Quinta kill! Attenzione, UAV disponibile, chiamiamo subito l'UAV! Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, in questo sabato di video random vi porto il terzo episodio di Un Noob su Black Ops 3. Questa serie che ho iniziato da pochissimo e poi appunto mi cimento a giocare a Black Ops essendo un U quasi totale. Ragazzi, oggi vi porterò di nuovo due deathmatch a squadra perché sono quelli che piacciono di più a me e sono anche quelli più giocati dagli altri. E siamo, come vedete, sulla mappa EVA. Quindi andiamo subito a vedere come andrà questo primo deathmatch a squadra. Ecco qua, prima kill! Avevo visto ragazzi, lo stavo aspettando. Ecco qua, seconda kill! Ecco qua, terza kill! Attenzione, colpito un altro. Quarta kill ragazzi, questo me l'avevo visto, mi stavo inseguendo da prima. Quinta kill! Attenzione, UAV disponibile, chiamiamo subito l'UAV. Nooo, mi hanno ucciso! Nooo, mi hanno ucciso, bastardo, l'avevo visto ragazzi, ho anche provato a spararlo. Eh, qui muori, vaffanculo, muori. Quasi ucciso. Mori, vaffanculo, ci sono altre. Attenzione, qui ce n'è uno ragazzi. È ucciso con lo scanto gravitazionale, vaffanculo. Sono circondato dai nemici praticamente, ce ne sono un'infinità. Eccoti qui, uno fuori. Eccolo qua, ucciso. Erano in due vicino a lui ragazzi, con un colpo della distanza l'ho fatto invece fuori io. Eccoti qua, fuori un altro. Mori, fuori un altro ancora. Mori, ancora un altro, fuori. Mori, fuori un altro ancora ragazzi. Grande partita questa. Fuori, ancora un altro. Ancora un altro fuori. E allora beccati questa, uccisione di schianto gravitazionale, vaffanculo. Fuori uno. Eh, no, passavo per farne fuori un altro, niente da fare. Fuori un altro. Via, fuori un altro ancora. Colpo alla testa e no, da dietro e poi mi hanno ammazzato. Me lo sono trovato davanti, porca miseria. Eccoti qui, questo è per prima, era quello che mi avevo ucciso e lo mi sono vendicato, vaffanculo. No, maledizione. Abbiamo vinto ragazzi, 100 a 95, un deathmatch combattutissimo, ma ce lo siamo portati a casa. Questa è la visuale della morte finale del nostro compagno, vediamo. Guardate qui. E' andato come me, ai ruin, quindi è andato di schianto gravitazionale. E siamo riusciti a vincere. Ragazzi, sono arrivato secondo, infatti eccomi l'angelo nero 83. 20 a 10. Quindi ragazzi, attenzione. Grande deathmatch, secondo posto. Ok ragazzi, ci vediamo fra poco con il secondo, con la seconda partita del deathmatch a squadre. Eccoci qui ragazzi, seconda partita. Questa volta la mappa è stronghold e inizia il deathmatch. Andiamo a vedere subito come andrà. Attenzione, qui prima kill. Lo sono trovato davanti e ho provato a saltare. No, ci hanno ucciso nonostante l'avessi sparato. Ragazzi, siamo già 8 a 25, c'è la mia squadra, per niente, sta subendo già tantissimo. Ecco qua, muori. No, ragazzi, non si capisce nulla. Niente da fare ragazzi, qua si subisce questa partita. Ecco qua, muori. Eh, muori, vaffanculo, si, fuori un altro. No, ragazzi, l'avevo sparato, l'avevo visto, ma non sono riuscito a ucciderlo. E allora andiamo di schianto gravitazionale, muori. Cercherò di difendere in tutte le maniere, ragazzi. Muori anche tu, fuori un altro. Eccolo, no, ragazzi, ma come ha fatto a non ucciderlo? Come ha fatto a non ucciderlo? È assurdo. Eccoti qua, muori, eh. Quei mi hanno ucciso, ragazzi, però. Grandi scontri in quella casa. Eh, muori, vaffanculo. Muori. Ragazzi, guardate qua, c'erano due. No, non ci posso credere, non li ha uccisi, erano in due. Erano per saldi facili. Muori, va. Ecco qua, fuori un altro. Eccoti qui, vaffanculo, voleva colturmi con la pistola, invece è rimasta uccisa. No, ragazzi, no, non... Porca miseria, peccato. Qua c'è uno. No, abbiamo perso. Partita persa 70-100, ragazzi. Ho trovato una squadra abbastanza debole, purtroppo. E abbiamo perso in maniera abbastanza meritata, perché i nostri avversari ci hanno domato facilmente. Guardate qui, ci sono i finali al volo. Vediamo. Ragazzi, sono arrivato comunque secondo nella mia squadra con 12-11. Quindi ho fatto due partite da secondo, in una pro partita vincente e nell'altra perdente. Ok, ragazzi, io come sempre vi invito a lasciare un like se questa serie vi sta piacendo. Se volete commentate, condividete il video. Mi raccomando, ragazzi, se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale. Qui sotto, come sempre, trovate tutti i miei social, quindi mi raccomando, passate dalle mie pagine. Qui da AngeloN83 è tutto. Ciao, gamers! Ciao, gamers!